bentornati divine e divine sul mio canale oggi affronteremo insieme una stesa interattiva che riguarda soprattutto il maschile ovviamente non sono propensa a dividere a separare le energie però tantissime di voi adesso io sto seguendo privatamente tantissime di voi perché il momento è proprio veramente denso di energie non è semplice da affrontare e quindi tante di voi effettivamente mi chiedono qualche cosa appunto di approfondire il loro viaggio privatamente e vedo che proprio tra diciamo tutte hanno questa curiosità proprio riguardo al maschile il maschile che sembra appunto davvero essersi smosso e però come abbiamo detto anche nell'ultima stesa e sembra anche qui essere un pochino a volte discontinuo non tutte non tutte perché il maschile si è risvegliato in tante di voi e lo stiamo vedendo però alcune volte questo maschile ancora un po diciamo discontinuo quindi c'è contatta si mostra quindi mostra che si è svegliato ma a volte si ritira ancora un pochino e lo abbiamo detto che queste sono le energie di plutone soprattutto che porta ancora all'introspezione e quindi a entrare in se stessi per tirare fuori ancora le ultime ferite che vengono che devono essere ancora guarite per cui io faccio sempre il possibile mi raccomando se non rispondo subito alle vostre mail abbiate pazienza io cerco di rispondere immediatamente però non sempre le richieste veramente in questo periodo sono tante quindi se non rispondo subito abbiate pazienza e se vedete che entro qualche giorno non vi rispondo riscrivetemi perché veramente faccio il possibile ma non è sempre semplice comunque la mia mail la trovate nel box informazioni allora bene affrontiamo un pochino con questa stesa interattiva il maschile quindi cosa sta facendo il maschile cosa sta sentendo dove si sta dove si sta dirigendo l'abbiamo visto in lungo e largo in queste stese però vedo che tante di voi ancora continuano a chiedermi questa cosa allora io vi dico sempre non cercate di avere troppo controllo cioè sapere che cosa sta facendo perché in realtà siete voi quindi voi osservate all'interno di voi stessi il maschile e come trovate il vostro maschile all'interno di voi stessi lo troverete fuori quindi in realtà la risposta ce l'avete già poi ovviamente non è semplice fare fare comunque questo lavoro di introspezione comunque di analisi di se stessi del proprio diciamo della propria interiorità e quindi diciamo si posso dare qualsiasi cioè in qualsiasi modo posso diciamo dare una mano ecco e lo faccio volentieri allora qua c'è davvero il vedere il voler sapere che cosa sta facendo il maschile allora andiamolo a vedere insieme in questa stesa interattiva allora ok perfetto allora andiamo a vedere di chiedere i nostri angeli che intervengono in questa stesa per darci le energie del maschile come sta cosa sta facendo come si sta evolvendo come come in un certo senso cosa prova intanto io vi invito a mettere come sempre mi piace il mio video e attivare la campanella così siete sempre aggiornate sui miei video allora chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa a darci le energie del maschile ovviamente io vi invito sempre a non separare le energie siamo un tutt'uno quindi è facile forse per chi ha fatto più lavoro interiore un pochettino più avanti nel viaggio analizzare se stessa e vedere a che punto il suo maschile quindi però non c'è nessun problema andiamo a vedere tanto i nostri angeli diciamo sono sempre disponibilissimi a darci i loro messaggi attraverso i tarocchi e gli oracoli allora vediamo un po' allora situazione attuale cosa prova e verso dove si sta muovendo allora energie della dea vediamo un po' per tutte quante le situazioni arcano maggiore più sovraintende la stesa messaggio degli angeli potere degli astri che intervengono in questa stesa le energie degli astri per il potere ok e poi come ultimo queste bellissime carte del maestro di gesù le frasi le bellissime frasi di gesù che servono al di là che uno ci creda o meno che sia insomma religioso o meno le sue frasi sono sempre sono eterne diciamo allora vediamo un po' allora vediamo un po' attraverso i nostri angeli l'energia di questo maschile allora andiamo a vedere situazione attuale guardalo qua allora yang in ieri c'era yang quindi c'è proprio il maschile in azione ma adesso che stiamo analizzando il maschile cosa troviamo il femminile e infatti io quello che vi dicevo è proprio che siamo un tutt'uno quindi non possiamo separarci yang e yin non si può separare infatti analizzando lo yang troviamo lo yin è bellissima questa cosa è davvero bellissima quindi cosa vuol dire che il maschile è totalmente immerso nel suo femminile è in contatto è in comunione è in unione è in ascolto del suo femminile quindi qua in questo momento davvero se se qualcuno di voi ha delle situazioni ancora un po' incontrastanti ricordatevi che comunque questo maschile è immerso nel suo femminile e se ancora un po' discontinuo è proprio perché si sta ascoltando sta entrando nel suo cuore sta entrando nella sua anima sta ascoltando se a se stesso e sta ascoltando il suo femminile quindi in questo momento davvero è è questo è in comunione in comunione con il femminile quindi c'è tanta tanta emozione tanto sentire e quello che dicevo io ieri nella stesa se ancora non l'avete vista vi invito a andarla a vedere quella di marte venere congiunti a plutone e proprio perché c'è uno scavare all'interno all'interno per sentire tutte queste emozioni e per tirar fuori ancora quello che deve essere guarito quindi qua c'è davvero questa situazione in azione quindi c'è un maschile totalmente immerso nel suo femminile pensate che meraviglia vediamo l'energia cocreazione infatti qua abbiamo detto incredibile ma l'abbiamo appena detto e c'è proprio l'unione creare insieme quindi c'è l'ascolto del del maschile insieme al suo femminile l'ascolto del suo femminile e insieme insieme concretizzano perché portano alla materializzazione la cocreazione collaborano stanno collaborando per cocreare a livello materiale quindi attenzione ci sono quelli che comunque sono avanti nel viaggio sono già uniti sono in contatto si sono veramente un maschile che si sta mostrando essere presente magari non proprio sulla parole perché a volte il maschile non è tanto in grado di parlare emotivamente almeno non tutti qualcuno sì però c'è c'è materialmente ed è questo che lui ti sta dicendo lui c'è materialmente nella tua vita e se ancora a volte è un pochino discontinuo è proprio perché sta ascoltando il suo femminile sta cercando di capire ancora cosa va guarito perché abbiamo detto che nella stesa della settimana c'è il riparare anche qui vi invito a andare a vedere la stesa della settimana entrante perché c'è proprio la questione che ovviamente in allineamento energetico con la lettura di Plutone e infatti c'è un riparare qualche cosa ancora che riguarda delle ferite delle ferite degli attaccamenti del passato che ancora stanno di nuovo emergendo però lui si sta già distaccando tutto questo anche perché le energie planetarie proprio a livello universale sta terminando queste energie stanno terminando un ciclo karmico ormai che scricchiola ormai non che scricchiola ormai è già crollato sta terminando questo karma del passato sta facendoci entrare in una nuova parte della nostra vita sia a livello planetario sia a livello individuale e tutto quello che era karmico quindi che rispondeva a delle scelte che abbiamo fatto in risonanza con un'autorità esterna stanno crollando esterna significa dell'ego dell'ego o di persone che comunque in un certo senso ci hanno influenzato come per esempio chi sta scegliendo il lavoro almeno ha scelto nel passato il lavoro che gli hanno indicato i genitori per esempio chi ha sposato una persona che risuonava energeticamente con una fase di una vita dipendente da ferite del passato ferite diciamo derivate da situazioni karmiche appunto e quindi tutto quello che abbiamo fatto che non era in risonanza con la nostra anima sta crollando sta crollando e quindi si stanno completando cicli karmici a livello planetario universale sia appunto a livello globale che a livello individuale quindi qua c'è la creazione di un qualcosa in contatto finalmente con la nostra anima si crea un nuovo mondo materiale che però sia quello veramente risonanza con quello che siamo dentro davvero quindi vedete beh questo già ci sta dicendo che il maschile in una fase meravigliosa quindi non preoccupatevi degli alti e bassi perché qua davvero c'è un qualcosa che deve essere eliminato e non è semplice è un lavoro molto complesso è un lavoro difficile e sta avvenendo sta avvenendo ovviamente con le sue difficoltà con i suoi tempi con le sue tensioni e quindi non pensiamo che tutto avvenga così con uno schioccare di dita ovviamente perché non è così e effettivamente il periodo è proprio per questo che diciamo tanti di voi mi stanno chiedendo aiuto tra virgolette perché effettivamente non è molto semplice questa situazione anzi è davvero molto difficile chi più chi meno ecco chi ha ancora delle ferite proprio da guarire che stanno emergendo adesso sta soffrendo un pochino di più o è un po' più diciamo più che soffrendo perché il lavoro tanto lavoro è già stato fatto è un po' più destabilizzato ecco mentre ci sono quelli che sono un pochino più avanti nel viaggio che effettivamente hanno qualcosa di molto più stabile molto meno montagna russa ecco allora vediamo cosa sta provando questo maschile meraviglioso a spingersi al limite voilà sta cercando davvero qua c'è un 9 sta cercando davvero di andare a trovare tutto quello che riesce per eliminare e qua c'è un 9 che ci sta dicendo proprio di conclusione dei cicli karmici quindi si sta spingendo proprio fin dove arriva consapevolmente poi lì ovviamente entra l'anima l'azione dell'anima per poter eliminare tutto quello che è sofferenza qua c'è un lembo di terra che vola e ci sono tutti questi cuori quindi c'è davvero un essere ancora nella terra ma essere proprio già proiettati nel cielo proprio perché si sta terminando qualche cosa di molto concreto anche pesante della propria vita ed esce il cuore quindi c'è proprio diciamo spingersi al limite di questo mondo in un certo senso del 3d proprio perché quello del controllo quindi lasciare andare il più possibile tutto quello che è ancora legato al passato e arrivare proprio a lambire proprio questo nuovo questa nuova vita che sta entrando nel suo vivo si sta veramente già configurando ovviamente il passaggio come dicevo tante volte nelle stese precedenti non è semplice non è immediato quindi c'è questo passaggio ma il passaggio ci sta dicendo proprio la conclusione dei cicli karmici ormai inutili per il nostro cammino d'anima perché le lezioni sono state prese perché tutto quanto è stato già diciamo in un certo senso scontato le sofferenze sono state scontate quindi si fa questo salto si è pronti proprio a operare il salto vediamo l'energia e bellezza si è proprio guidati dalla bellezza dall'amore dall'unione il 6 è proprio la questione proprio dell'unione della bellezza dell'armonia e quindi si sta facendo tutto questo proprio per raggiungere l'energia dell'armonia è proprio l'energia dell'armonia che ci sta spingendo e dell'unione ci sta spingendo proprio a concludere questi cicli karmici è un po' un diciamo un qualcosa di veramente di mutua energia uno serve l'altro l'altro serve a questo quindi insomma in un certo senso ci si spinge il limite per raggiungere l'unione ma è proprio già l'unione presente che ci spinge a eliminare tutto quello che è pesante tutto quello che è da rilasciare allora andiamo a vedere aspettate un attimo andiamo a vedere che cosa come si sta evolvendo e guarda se non è meravigliosa questa stesa ci sta veramente dicendo che tutto questo porta all'evoluzione di una nuova vita c'è questa nuova persona con le ali quindi già già in contatto con la sua anima già sta volando sta nei mondi spirituali però è ancora appoggiata a questo marmo a questa colonna quindi la materia è davvero ancorati alla materia ma già in un mondo diverso ed è c'è proprio l'energia di una nuova vita che rinasce c'è proprio l'uovo l'uovo cosmico in un certo senso l'uovo da cui nasce la nuova vita e ci si risveglia quindi si risveglia veramente si sta cominciando davvero davvero materialmente guardate questa nuova meravigliosa vita che da un po' di tempo di cui un po' di tempo stiamo parlando quindi già spettacolare questo è l'evoluzione e guarda qua sono nuovi inizi guarda che meraviglia ma nuovi inizi come? 13 c'è ci da un bel 4 nuovi inizi materiali guarda se queste carte non sono in estrema risonanza con se stesse e quindi c'è veramente questo nuovo inizio, nuova vita guardate che meraviglia il maschile sta facendo un lavoro meraviglioso, un lavoro pazzesco e quindi vuol dire che lo stiamo facendo noi ragazzi e ragazze siamo un tutt'uno quindi quello che sta facendo il maschile è perché lo stiamo facendo noi noi soltanto che vederlo materializzare è proprio un qualcosa che deve seguire i suoi tempi e i suoi spazi noi viviamo qua in questa dimensione, nella dimensione dello spazio del tempo e quindi ovviamente non è immediato il cambiamento deve essere un pochino diciamo ai suoi tempi ma ovviamente se ci affidiamo ai tempi dell'anima e ci vuole anche la sua dose di fatica fatica e anche tra virgolette sofferenza perché comunque quello che si sta configurando a livello anche mondiale lo vediamo non è semplice, anche doloroso c'è tanto dolore, c'è tanta sofferenza ma è proprio attraverso questo dolore, questa sofferenza che l'anima si sveglia perché proprio fin quando non siamo spinti a al limite spingersi al limite non si riescono a terminare i ciclicarmici quindi anche qua davvero ci sono situazioni in cui la sofferenza viene ed è serva, serva dell'anima non è padrona dell'anima è serva dell'anima vuol dire che serve il cammino dell'anima proprio per produrre questi cambiamenti se stessimo tutti bene non cambieremmo niente e invece la sofferenza ci porta proprio al cambiamento quindi qua davvero nuova vita concreta guardate che meraviglia co-creazione dell'unione e nuovi inizi di una nuova vita mamma mia bene andiamo a vedere chiediamo ai nostri angeli che cosa riguarda proprio questo femminile con cui il maschile sta co-creando sta co-creando qualcosa di molto concreto che è l'unione un'unione, nuovi inizi di nuova vita c'è proprio una conseguenzialità anche in queste carte il contatto col femminile spinge il maschile ad andare a eliminare tutto quello che non risuona con la sua anima e nasce una nuova vita qua il femminile e il maschile uniti co-creano che cosa? la loro unione a livello materiale e quindi una nuova vita anche su questo piano materiale quindi la bellezza di questa stesa è già sarebbe una stesa già completa ragazzi ragazze però allora vediamo un po' questo femminile questo femminile ecco qua mi è partita questa carta guardala qua il femminile che è questa regina regina dei suoi desideri quindi sa esattamente cosa vuole proprio perché è in contatto con se stessa il femminile è nel suo pieno potere il pieno potere del femminile quindi nel comprendere proprio che cosa vuole l'anima è in contatto ed è in contatto con l'energia dell'amore vediamo un po' ok e voilà e comunica al suo maschile questa consapevolezza che lui deve mettere in pratica allora andiamo a vedere una specifica su questo questo femminile maschile che collaborano co-creano comunicano collaborano e co-creano pensate che meraviglia questa continua a scapparmi qual è la consapevolezza? l'amore sacro e quindi l'unione unione bellezza e veramente amore sacro e qua c'è un maschile totalmente innamorato è perso nella sua nel suo femminile e grazie a questo è in grado proprio di concludere tutto quello che in passato lo ha legato sentimentalmente perché non era amore ma era karma quindi è consapevole di dover co-creare tutto questa meraviglia e quindi lasciare andare tutto quello che è finito ormai è terminato vediamo un po' sì 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 e guardate qua l'inizio di un nuovo ciclo fisico fisico di vita fine di relazioni passate e inizio proprio concreto con l'amore della sua vita che è il femminile allora mamma mia quanta roba allora qua vediamo un po' spingersi al limite per creare quest'unione vediamo un po' ho sotto l'energia dell'unione vedi che c'è diverse due tipi di lettura che si incastrano pienamente meravigliosamente ok guardalo qua amore sacro quante volte sta uscendo questo amore sacro mamma mia mamma mia e sì la piena realizzazione di quest'unione a livello materiale e la materializzazione di tutto questo guardate che unione pazzesco qua c'è davvero lasciare andare e spingersi oltre al limite cioè al limite per creare l'unione l'unione quale? unione di amore sacro totalmente del godere della materialità di quest'unione e proprio l'unione a livello materiale qua ci sta dicendo proprio la materialità totale dell'amore sacro mamma mia che lavoro sta facendo il maschile mamma mia mamma mia così questa stesa sarà anche utile a tutte le persone che mi stanno contattando e mi hanno contattata proprio per sapere che cosa sta facendo il maschile poi ovviamente queste sono stese interattive quindi magari non tutti sono a questo livello e quindi proprio per questo è importante poi approfondire il proprio viaggio proprio in maniera personalizzata perché non è semplice proprio davvero dare l'idea a tutti di quello che sta accadendo perché ogni viaggio a sé per cui insomma comunque l'idea diciamo del momento diciamo l'energia preponderante di questo momento è proprio questa e c'è proprio l'iniziato qua c'è io lo chiamo l'iniziato è l'appeso l'appeso è colui che si mette in gioco si mette e deve superare la prova di che cosa di stare a testa in giù di guardare le cose da un altro punto di vista e quindi superando la prova supera e diventa un iniziato quindi diventa poi davvero quello che può tornare con la testa rivolta dalla parte dalla parte giusta ma perché perché ha superato questa prova quindi ha compreso ha compreso anche mi viene da dire tutto quello che deve eliminare qua c'è davvero il guardare le cose da un altro punto di vista quindi ci vuole un pochino di tempo ci vuole ci vuole la sua sofferenza perché anche stare a testa in giù non è semplice quindi ci vuole il suo tempo però tutto quello che sta facendo è proprio in ottica proprio di creare quest'unione sacra a livello fisico e c'è il sole ovviamente sta portando alla luce tutto quanto tutto quanto e sta capendo che vuole partire guardate qua dieci dieci guardate la pazzesco come incredibile incredibile e vabbè così gli angeli parlano e parlano sempre 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 molto molto chiaramente e voilà mi è scappata questa carta ovviamente qua ci mettiamo il re di coppe e l'abbiamo visto che lo era anche qua innamoratissimo quindi c'è qua l'energia dell'amore l'energia dell'amore l'inizio la materializzazione dell'amore sacro guardate quante carte si sono ripetute si sono ripetute guarda anche ma poi si stanno ripetendo tutte perché in realtà cocreare rinascere qua spingersi al limite per concludere e quindi arrivare a nuova vita è tutta una conseguenzialità meravigliosa comunque quelle che si stanno ripetendo sono tanto l'unione cocreare unione quindi stare in comunione per creare l'amore sacro il proprio l'inizio l'inizio il nuovo inizio e il terminare ciclicarmici poi ovviamente l'inizio è proprio in risonanza anche proprio con questa parte qua della lettura quindi è il re di coppe perché lui è davvero davvero tanto tanto innamorato è estremamente innamorato e magari non lo so dire a parole eh sì perché tanti tanti maschili non hanno questa capacità di proprio a livello emotivo di esprimere parole ma ci sono se ci sono vuol dire che ci vogliono essere non sono costretti da nessuno a stare con noi ma solo perché si sentono uniti a noi ci sono sempre e qua abbiamo due di coppe allora qua mi sta dicendo che nuova vita la nuova vita che presuppone appunto una scelta la scelta che deriva proprio dall'eliminazione del passato quindi qua si comincia una nuova vita proprio perché si è scelto questa nuova vita si è operato una scelta d'amore ovviamente perché si parla in questo momento d'amore e quindi questa nuova vita inizia proprio con la scelta la scelta e il cambiamento guardatelo qua si sceglie si opera una scelta concreta che si è manifestata qui e il risultato è proprio il cambiamento totale qua c'è nuova vita esplode tutto quello che 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 non serve più una vita conclusa nel senso di ciclo carmico concluso perché si è operata questa scelta concreta d'amore quindi qua in realtà davvero si comincia qualcosa di nuovo dopo la distruzione di tutto quello che ormai eliminazione di tutto quello che ormai non serve più si davvero si è un po' raso al suolo guardate che anche c'è stata una guerra quindi non è semplice è effettivamente il cambio vita per questo che io dico sempre alle ragazze e ai ragazzi che mi stanno contattando e dico sempre attenzione perché questo processo non lo vedete arrivare così di punto in bianco è un tra virgolette una guerra insomma diciamolo tra virgolette ma è così è un combattere contro se stessi contro le proprie dipendenze affettive o dipendenze anche mentali psicologiche proprio perché se si è infatti qua brandisce una spada che vuol dire sia il combattimento ma anche proprio qualcosa che termina a livello di condizionamento mentale perché se per esempio tante di noi sono con una fiamma che magari o la fiamma stessa chi mi contatta il femminile oppure la sua fiamma ha una relazione magari già di vent'anni per esempio e credete che sia semplice terminare una relazione di vent'anni così di punto in bianco assolutamente anche se si è capito che la scelta va fatta e la sta facendo la stanno facendo ma ovviamente ci si trova un pochino terra bruciata intorno quindi non pensiate che sia una cosa così semplice solo perché le energie ci portano al cambiamento è davvero tra virgolette una lotta anche perché proprio le energie astrologiche che ci sono in campo in questo momento sono proprio di contrasto non solo vabbè c'è la congiunzione che già la congiunzione è forte con Plutone che già ci parla di inferi quindi già quello ci fa capire che nonostante sia una diciamo una configurazione astrale non non disarmonica ma è intensissima quindi ci porta veramente negli inferi l'abbiamo visto con la lettura precedente ma c'è questo Saturno e Urano che si sono scontrati proprio perché sono in quadratura non sono nemmeno in opposizione che ancora l'opposizione di per sé è ancora leggermente meglio della quadratura qua siamo proprio in quadratura qua c'è veramente un qualcosa che è incomunicabile in un certo senso bisogna trovare la quadra la quadratura e quindi qua davvero si capisce che qua c'è davvero un mettere terra bruciata intorno ci si fa terra bruciata intorno ma dalla terra bruciata poi ci si rigenera infatti ci sono delle carte anche di di oracoli eccetera che parlano proprio di rigenerazione su un terreno bruciato ed è proprio questo il senso di questa carta che la nuova vita sorge dove dove c'è stata una scelta e quindi si è avuto il coraggio proprio di distruggere tra virgolette con il lavoro ovviamente con il cammino dell'anima il piano dell'anima si finisce un ciclo allora andiamo a vedere voilà è la forza del femminile che in un certo senso davvero conduce conduce con la sua consapevolezza tutto questo allora andiamo a vedere di che cosa ci parla appunto questa questa nuova vita questa questa torre questo questa scelta questo cambiamento questo questo femminile che guida lo vediamo qua il femminile anche proprio di consapevolezza che da diciamo il ci segue dall'alto eh sì e qua c'è davvero anche proprio guarda quante cose ci sta dicendo che ci sono proprio un po' queste 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 ferite che bisogna affrontare per poter avere questa nuova vita proprio tutto quello che sta succedendo qua ci sta parlando proprio di nuova vita a partire da tutto questo che succede quindi da queste scelte da questo togliere tutto sotto la guida dell'anima le ferite vanno eliminate le ferite ci si va a distaccare è un femminile che con la sua consapevolezza va anche a eliminare la dipendenza psicologica e quindi le ferite psicologiche che ci che trattengono e a cosa portano alla piena diciamo condivisione materiale di una vita insieme basato proprio sulla sulla sull'anima qua c'è l'acqua l'acqua il mondo dell'anima delle emozioni e appunto qua vengono tagliate tutto quanto tutto quello che fa riferimento al passato quindi qua nuova vita perché si operano scelte si accetta di fare tabula rasa ci si distacca degli attaccamenti psicologici si vuole andare veramente a concretizzare qualcosa dopo aver concluso tutto quello che è il passato e voilà e c'è anche un re di spade non solo la regina di spade quindi la regina di spade conduce con la sua consapevolezza tutto questo e il maschile mette in atto proprio questa consapevolezza meraviglioso allora io adesso andrei a vedere un attimo l'arcano maggiore che sopraintende la stesa la forza la forza dell'unione tra maschile e femminile la forza creativa la forza di chi ha superato diciamo proprio l'iniziazione abbiamo detto che l'iniziato ritrova la sua forza e la sua dimensione dopo aver appunto superato la prova vediamo il consiglio degli angeli sagge decisioni gli angeli sanno che sei preoccupato ma abbi fiducia e tutto andrà bene mantieni le tue convinzioni nella consapevolezza che la situazione è illuminata dalla luce divina infatti lo vediamo qua lo yin che entra nello yang e tutto risana concediti tempo per risaminare a fondo ogni dettaglio e qua l'abbiamo visto spingersi al limite attenzione gli sta cercando davvero cosa deve essere eliminato e spingersi veramente ai limiti ai limiti di tutto quello che è la comprensione a livello materiale quindi il maschile sta facendo un lavoro pazzesco sta prendendo sagge decisioni il perdono porterà pace a tutte le persone coinvolte quindi se si lavora con l'anima si elimina karma e non se ne crea più quindi anche proprio tutte le diciamo le situazioni vanno gestite come vanno gestite secondo l'azione dell'anima perché se noi eliminassimo con l'azione dell'ego creeremmo solo altro karma e quindi non ci liberiamo più di nulla invece no la forza dell'anima arriva a far prendere sagge decisioni non decisioni avventate e quindi decisioni che non creano ulteriore karma anzi lo eliminano pensate che meraviglia poi come ultima prendiamo la carta del maestro e qua c'è l'azione del leone allora guardate che meraviglia cocreare creatività cinque qua è l'azione della creazione in ambito astrologico la quinta casa è proprio quella della creazione del leone e quindi è proprio il cambiamento che avviene proprio attraverso la creazione di una forza guardatela qua la forza di un femminile che domina questa forza quindi c'è davvero il senso veramente del femminile che entra nel maschile domina ma non con l'ego ma con la forza dell'anima è l'anima che sta cocreando maschile e femminile cocreano e c'è proprio la casa della creazione con la forza meravigliosa fuoco del leone e quindi davvero veramente stiamo facendo il maschile ma quindi anche noi stiamo facendo un lavoro meraviglioso vediamo le carte del maestro non temere abbi semplicemente fede guarda qua che meraviglia qua ci sta dicendo davvero nessuna paura perché se l'anima vi guida l'anima fede sentire sentire lo yin sentire il femminile sentire l'anima sentire quello che devi fare a livello d'anima quindi non puoi temere perché la fede la fede è il sentire in realtà sapere che puoi fidarti perché lo senti dentro è una saggezza che va veramente oltre qualsiasi comprensione infatti qua ci porta sagge decisioni guardate che meraviglia con la fede si risolve tutto e questa meravigliosa stesa è davvero una bomba qua ci sta dicendo veramente che fa sul serio il maschile sta facendo davvero sul serio non sta aspettando non sta prendendo tempo sta facendo sul serio quindi affidiamoci affidiamoci al nostro maschile esteriore proprio perché è lo specchio del nostro maschile se noi abbiamo curato risvegliato amato il nostro maschile interiore lo stiamo mettendo in atto perché noi per prima dobbiamo metterlo in atto perché così è un maschile che sa che può agire perché c'è la base del femminile che lo sta guidando io con questo vi saluto vi do un fortissimo abbraccio alla prossima stesa a presto a tutti ciao ciao ciao